Per Torino Sportivo accorce Vitucci dopo la grande vittoria contro Trento, una settimana difficile, ma stasera una partita difensiva praticamente perfetta. Sì, tranne un po' di rimbalzi concessi nel secondo e quarto, dove loro ci hanno messo in grande difficoltà proprio per l'approccio fisico che hanno avuto. Però la squadra è stata molto brava ad applicare il piano partita che avevamo preparato in settimana e volevamo fortemente che questa vittoria sia vista. E quindi ha dato merito a questi giocatori di aver dato tutto quello che poteva andare, nonostante la settimana sia stata molto difficile dal punto di vista fisico. Wade è ancora assente, ma Wilson e Mazzola sempre più in crescita e sempre più determinanti. Sì, molto bravi loro, molto bravi la squadra nel suo complesso. Chiaramente senza DJ abbiamo dovuto un po' e dobbiamo ancora migliorare nel ristabilizzare le cose da fare. In attacco qualche volta magari ruffiamo perché ci manca il nostro terminale principale, ma difensivamente invece stiamo facendo un pochino meglio. Quindi le due cose si stanno bilanciando, tre partite senza White e vincere le due che dovevamo vincere in casa. Insomma è comunque un segnale di buon ottimismo. Grazie.